Proseguono anche quest'anno le attività di conservazione del Falco Grillaio con il progetto Il Parco per il Grillaio, finanziato dal Parco Nazionale dell'Altamugia e realizzato in collaborazione con la Lipu. Come ogni anno, nella prima settimana di maggio sarà effettuato il censimento generale della popolazione di Grillaio, che nidifica nelle città del Parco e di molte altre città pugliesi e lucane, grazie al contributo di decine di volontari ed associazioni locali. L'attività si svolge presso alcuni alberi particolari, cosiddetti dormitorio, presenti in ambito urbano, presso i quali tutti i grillai si radunano al tramonto per trascorrervi la notte. Ogni gruppo di volontari si ferma per circa un'ora osservando e annotando su una scheda l'arrivo dei piccoli rapaci che ordinatamente si posano sull'albero. I dati degli scorsi anni relativi ai cinque comuni del Parco dove il Grillaio è presente, dopo una fase di graduale incremento numerico a partire dal 2009 mostrano una situazione pressoché stabile dal 2013 al 2015 con circa 8.000-8.500 conteggiati ogni anno, corrispondenti ad oltre il 65% di tutta la popolazione apulolucana. Se per alcune città si registra nel corso degli anni un aumento di presenze, Gravina in Puglia, Cassano Murge, Santeramo in Colle, per altre invece se ne registra un sensibile callo numerico. A Minervino Murge nel 2013 si contavano circa 2.000 grillai, ma negli anni successivi il numero è progressivamente calato, fino allo scorso anno del 50%. Anche ad Altamura le presenze negli ultimi due anni sono inferiori rispetto al biennio 2012-2013 con una diminuzione del 20% circa.